Amici soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa 99esima puntata del podcast di Marcos Box. Beh, come va? Spero tutto bene per voi, spero che vi stiate godendo questi giorni di inizio stagione estiva con le prime riaperture, le prime passeggiate al mare, i primi giri, il primo ritorno alla vita dopo tanti mesi di restrizioni, di freddo e di quanto altro. Anche se io adoro il freddo perché odio il caldo, odio il caldo perché porta le zanzare qui, mannaggiavi i piscetti, ho dovuto già mettere le presine ovunque e sto già con la racchetta pronta a fulminarle una presa al lato. Odio il caldo, odio le zanzare. Comunque, iniziamo questa puntata parlando di una piccola guida che ho pubblicato lo scorso 29 maggio una piccola guida che ho pubblicato perché? Perché mi è stato segnalato da parte di un lettore che non funzionava più YouTube DL installato con la precedente guida e il mio precedente guida prevedeva l'installazione di YouTube DL mediante i repository di Ubuntu. Sapete voi, però, perché i repository di Ubuntu non sono sempre aggiornati a guida versione, specie per questo tipo di pacchetti che non vengono praticamente aggiornati. Viene fatto il freeze, raramente viene aggiornato, appunto viene fatto il freeze quando viene rilasciata una nuova versione di Ubuntu e quindi ce li si porta dietro per diverso tempo con tutti i problemi. La stessa cosa, per esempio, si porta avanti, si porta indietro a Mule e quant'altro. Insomma, YouTube DL non funziona e quindi ho deciso di fare una piccola guida che vi spiega come bypassare il problema dei repository e installare YouTube DL mediante PIP su Ubuntu. Su Marcosbox trovate la guida, vi spiego passo passo come fare e che dire funziona, quindi è la soluzione migliore. Quindi se l'avete precedentemente installato YouTube DL mediante il repository di Ubuntu, piangatelo, installatelo tramite PIP e mantenetevelo aggiornato con la guida che vi ho pubblicato, quindi in modo tale da non avere più problemi in futuro. L'evento più atteso e importante della comunità Linux italiana è senza rompere di dubbio il Linux Day che quest'anno si svolgerà il prossimo 23 ottobre 2021. Mancano quindi diversi mesi, però il team che sta organizzando l'evento ha deciso di iniziare a coinvolgere la comunità e farlo in un modo davvero interessante. Da diversi anni ogni edizione del Linux Day viene accompagnata da un banner unico che viene utilizzato sui siti web della manifestazione e condiviso con chiunque ne voglia esplorlo per dare una mano con la promozione dell'evento. Oltre che come strumento di comunicazione dell'evento viene anche utilizzato per rappresentare il tema dell'anno e quindi per veicolare il messaggio proprio ed essenziale segnato ad ogni edizione. Da qui la decisione dell'Italian Linux Society di lanciare un contest aperto a chiunque sia in grado di realizzare un banner che deve avere determinati requisiti che appunto sarà utilizzato come strumento di promozione del Linux Day. Il tema del Linux Day 2021 sono i dati ovvero le informazioni che vengono elaborati dal software. Per creare il proprio banner si può prendere l'ispirazione da diverse chiavi di lettura quelle più vicine alla privacy, quelle più attente agli open data quelle magari con argomenti più tecnici tipo i dataset che alimentano gli algoritmi di machine learning e quant'altro. La sfida è stata lanciata quindi chiunque voglia partecipare può realizzare il banner e trasmetterlo all'indirizzo dell'Italian Linux Society che trovate su Marcosbox entro mercoledì 30 giugno 2021 quindi avete un mese scarso per potervi cimentare in questa iniziativa. Su Marcosbox ci sono i requisiti ci sono maggiori informazioni sull'argomento e ci sono anche informazioni su come verrà verrà selezionato il vincitore o la vincitrice e quali sono i formati nei quali deve essere declinato poi successivamente questo banner vincitore. Se avete capacità grafiche fatevi sotto e partecipate. Passiamo adesso alla parte della puntata dedicata alle distribuzioni GNU Linux apriamo questa parte parlando di Linux Mint come ben sapete ogni mese, ogni fine mese il team di Linux Mint pubblica un articolo sul blog ufficiale nel quale vengono illustrate tutte quante le novità che ruotano attorno a Linux Mint e a Cinnamon in generale. Puntuale come sempre anche questo mese è tornato il consueto post di Clement Creme Lefebvre sulle novità nel mondo di Linux Mint e Cinnamon. Iniziamo parlando del nome in codice che è stato scelto per Linux Mint 20.2 Linux Mint 20.2 si chiamerà con il nome in codice UMA e se tutto andrà per il verso giusto avremo la prima versione beta pronta entro giugno quindi manca poco al rilascio di questa nuova edizione. Come ben saprete questa edizione da qualche anno le edizioni di Linux Mint non seguono più i rilasci semestrali di Ubuntu ma seguono i rilasci LTS di Ubuntu quindi Linux Mint 20.2 sarà basato su Ubuntu 20.04 quindi non avrete stravolgimenti per quanto riguarda lo stack grafico parco software e quant'altro quindi ma starti sul sicuro sulle carie vecchie buone LTS di Ubuntu. Bene altre novità che caratterizzeranno questo rilascio sono l'aggiunta di una nuova X-App chiamata Burki che è praticamente un software in grado di rinominare in blocco i file in Cinnamon e Mate questo strumento sarà aggiunto Burki sarà aggiunto sia all'edizione Mate che all'edizione principale con Cinnamon non verrà aggiunto nell'edizione X-FSA in quanto Tuner è già dotato di un proprio rinominatore di massa incorporato quindi non sarà necessario portarlo anche sull'edizione X-FSA l'altra novità riguarda alcune modifiche che sono state fatte a Nemo i file manager di Cinnamon in Nemo 5.0 saremo in grado di combinare la ricerca di file e la ricerca del contenuto cioè file che sono nominati in un certo modo oppure che contengono ad esempio parole particolari quindi si espande la capacità di ricerca di demo all'interno di Cinnamon c'è poi una novità che riguarda il supporto a M&D nell'applet Nvidia Prime di recente è stato eseguito il backport di Nvidia Prime Applet 1.2.7 che contiene una correzione per una regressione in Ubuntu Drivers Common che faceva scomparire l'applet è stato aggiunto anche il supporto per computer ibridi AMD Nvidia cioè computer dotati di GPU AMD integrata e di una GPU Nvidia discreta quindi anche in questo caso l'applet funzionerà infine troviamo modifiche che sono state fatte a Warpinator la prossima versione di Warpinator offrirà la possibilità di selezionare quale interfaccia di rete si desidera utilizzare se si è connessi a più interfacce ad esempio wireless, ethernet per esempio questo ci permetterà di selezionare su quale rete vogliamo condividere i file quindi consiglierà di avere trasferimenti fino a tre volte più veloci sono piccole novità dal team di Linux Mint che faranno felici molti di voi all'ascolto invece nel mio caso mi rendono molto infelice perché sto vedendo che Cinnamon e Linux Mint sono un po' arenate quindi il tanto atteso redesign, il tanto atteso stravolgimento dell'interfaccia quindi con miglioramenti e quant'altro non si è avuto Cinnamon continua ad essere il vecchio Cinnamon e non vede novità e creatanti ma vede soltanto aggiunta di applicazioni ogni tanto random e basta, di fatto quelle, correzioni di bug certo alcuni possono dire che questa sia una cosa buona e giusta perché rende il tutto più stabile ma per chi come me soffre di aggiornite vedere Cinnamon sempre lì, sempre il vecchio Cinnamon un po' dà fastidio dopo aver parlato di Linux Mint passiamo adesso all'altra distribuzione verde per antonomasia sto parlando ovviamente di OpenSUSE questa settimana c'è stato il rilascio di OpenSUSE Leap 15.3 c'è stato un enorme cambiamento rispetto alle versioni precedenti di Leap OpenSUSE Leap 15.3 è realizzata non solo partendo dal codice sorgente di SUS Linux Enterprise così come accadeva nelle versioni precedenti ma è stata sviluppata con gli stessi pacchetti binari il che rafforza ulteriormente il connubio tra Leap e SUS Linux Enterprise come una sorta di Yin e Yang ci hanno anche fatto un immaginetto wallpaper, uno sfondo con i Charmigan la mascotte di OpenSUSE messa a mo' di Yin e Yang è simpatico, andatelo a vedere su Marcosbox c'è l'immagine ovviamente ci sono tutti quanti gli aggiornamenti di manutenzione come al solito c'è stato un aggiornamento per quando riguarda i Desktop Environment con l'arrivo di XFSE 4.16 KDE Plasma viene mantenuto alla versione 5.18 quindi la versione LTS GNOME resta alla versione 3.34 c'è stato soltanto qualche altro aggiornamento minore per quando riguarda Cinnamon quindi lato Desktop Environment non ci sono stati grandi stravolgimenti le novità principali riguardano GNU Health il gestore di pacchetti DNF che è stato aggiornato il supporto per i sistemi IBM Z e Linux One e qualche altra modifica andatelo a vedere su Marcosbox quindi con miglioramenti per le tecnologie di container per l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico insomma andatelo a vedere su Marcosbox tutte le novità tutto il changelog che ve l'ho corposo Opensource Grip 15.2 che avessero il precedente raggiungerà il termine del ciclo di vita entro 6 mesi a partire dalla data del rilascio eterno quindi ci sono altri 6 mesi e gli utenti sono invitati ad aggiornare a Opensource Grip 15.3 per continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e manutenzione per i prossimi 18 mesi su Marcosbox trovate, ripeto, maggiori informazioni su questo rilascio e il link per scaricare l'iso aggiornata Passiamo adesso ad un'altra distribuzione molto attesa da tantissimi di voi all'ascolto il team di System76 ha annunciato la disponibilità della versione beta di PopOS 21.04 la nuova versione semestrale di PopOS che, come lascia presaggire il nome, è basata su Ubuntu 21.04 la particolarità di questa nuova versione risiede nell'arrivo di Cosmic la reinterpretazione del gnome shell sviluppata dal team di System76 di Cosmic ve ne avevo già parlato sulle pagine di Marcosbox qualche mese fa con una video anteprima di PopOS 21.04 con Cosmic che potete visualizzare all'indirizzo che trovate su Marcosbox e è stata rilasciata ovviamente nelle sue due edizioni nelle sue due ISO quella per sistemi Intel AMD e quella per sistemi con schede video Nvidia quindi con già i driver proprietari belli settati a puntino per chi come me utilizza una scheda video Nvidia e io la volevo provare ci ho provato da tutti i modi in questi due giorni ma non sono riuscito a farla partire perché praticamente mi crasha l'installer che è una bellezza ogni volta che vado a lanciarlo mi si bug l'installer e non posso proseguire con l'installazione non è che mi crasha l'installer mi crasha proprio tutta la distra in live quindi mi devo tenere ancora a Ubuntu per qualche tempo a meno che non faccia come ho fatto in passato che mi sono installato la versione 21.10 l'ho upgradata l'ho upgradata seguendo le solite istruzioni che trovate fra l'altro allegate anche all'interno di questo di questo articolo riguardante PopOS 21.04 beta e niente che dire se l'avete provata fatemi sapere che cosa ne pensate io trovo davvero interessante questa reinterpretazione di Gnome Shell portata avanti dal team di PopOS ha bisogno di alcune rifiniture per esempio la barra inferiore è troppo alto occupa troppo spazio sullo schermo e andrebbe fatto anche un lavoro di restringing del tema chiaro però è tutto sommato piacevole e semplice da utilizzare mi piace molto sapete bene che io la Shell nuda e cruda non riesco a utilizzare è più forte di me io amo la follia l'interpretazione di Gnome Shell di Ubuntu e sto amando sto iniziando a apprezzare molto anche l'interpretazione di Gnome Shell di PopOS comunque ripeto fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa reinterpretazione passiamo adesso a parlare degli aggiornamenti che ci sono stati nei software open source più apprezzati e utilizzati da noi utenti Linux ma non solo perché sono tutti quanti quelli di cui andremo a parlare software che vengono utilizzati anche su altre piattaforme il primo software che ha ricevuto un aggiornamento questa settimana è Mozilla Firefox c'è stato il rilascio di Firefox 89 per Windows, Mac OS, Linux, Android e iOS questa nuova versione ha portato con sé importanti modifiche all'interfaccia grafica che è stata completamente riprogettata con modifiche che coinvolgono la barra degli strumenti la barra degli indirizzi i vari menu i vari prompt ma anche i default praticamente delle icone presenti all'interno dell'interfaccia grafica e modifiche molto pesanti molto impattanti specie se andate a vedere come adesso appare il browser su Windows su Ubuntu su Linux in generale è possibile adattarsi al tema GTK e devo dire che con Ubuntu perché su Ubuntu 21.04 è già arrivato l'aggiornamento a Firefox 89 lì si vedono meno i danni fatti da parte del team che ha curato l'interfaccia grafica la nuova interfaccia grafica di Firefox e diciamo che lì è un po' più piacere perché è meglio si integra col sistema ma se voi vedete come appare adesso Firefox su Windows è un pugno dell'occhio le finestre modali sono state riprogettate sono tutte belle tutte arrotondate come piace adesso ai giovani d'oggi i tasti delle schede non sono più delle schede ma sono dei tasti giganti diciamo così su due linee con informazioni che vengono viste su due linee insomma sono state fatte delle modifiche molto pesanti all'interfaccia grafica che non tutti stanno apprezzando e sto vedendo che moltissimi utenti stanno bloccando l'aggiornamento stanno cercando di di metterci una pezza in in altre in altra maniera e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa nuova versione di Firefox e fatemi sapere se vi piace questo nuovo gook che è stato dato che è stato dato al famoso browser open source e a me ve lo dico non mi piace per niente la direzione che hanno intrapreso la tua grafica può darsi che sono io che sono vecchio può darsi che sono io che come al solito sono restito ad alcuni cambiamenti quindi ho bisogno di tempo per riadattarmi magari fra qualche mese dirò eh faccio la schifo la vecchia interfaccia quella nuova è la migliore in assoluto anche se penso proprio che non lo dirò mai una cosa del genere e niente insomma lasciate un commento su Marcosbox e fatemi sapere che cosa ne pensate di questi importantissimi cambiamenti che sono stati fatti all'interfaccia grafica di Firefox 89 torna ad aggiornarsi anche OBS Studio il famoso software multipiattaforma gratuito open source per lo streaming e la registrazione video OBS Studio 27.0 introduce una importantissima funzionalità per tutti quanti gli utenti Linux ovvero il supporto a Wayland con l'aggiunta di una nuova sorgente di acquisizione Pipeware quando si utilizza Wayland per questo motivo per gli utenti Ubuntu è richiesta la versione 20.10 o successivo per poter avere l'acquisizione grazie a Pipeware con la sessione Wayland sulle versioni precedenti questo non è possibile non manca ovviamente il consueto lavoro di correzione di bug e miglioramenti e alcune modifiche per quanto riguarda gli utenti Windows con l'aggiunta del supporto al Nvidia Noise Removal nel filtro Noise Suppression per maggiori informazioni su OBS Studio 27.0 vi rimando le pagine di Marcosbox dove troverete il link al changelog completo e troverete anche il link al PPA OBS Studio che è possibile utilizzare su Ubuntu e derivate per poter aggiornare OBS alla versione 27.0 su Ubuntu e derivate anche Blender torna ad aggiornarsi la Blender Foundation ha annunciato il rilascio di Blender 2.93 LTS l'ultima versione del ramo 2.x prima del passaggio nuovo ramo di sviluppo il 3.x che vedrà la prima versione di Blender basata sul nuovo ramo di sviluppo per la fine del mese di agosto 2021 ovviamente questa nuova versione di Blender 2.93 LTS offre miglioramenti all'esperienza utente e interessanti di novità perché il team di Blender è sempre molto rapido e molto capace di raggiungere nuove funzionalità di versione in versione quindi è un software che viene sviluppato continuamente ed è per questo che è diventato uno dei software più apprezzati e amati su tutte le piattaforme disponibili su Marcosbox trovate maggiori informazioni su questo rilascio trovate il link alle note di rilascio non vi sto a parlare delle novità di Blender 2.93 perché dovete vederle quindi le novità di Blender sono difficili da raccontare mediante un podcast andate su Marcosbox andate a vedere le note di rilascio e andate a vedere i vari screenshot video e quant'altro che sono stati legati che illustrano le nuove funzionalità di Blender 2.93 l'ultima parte di questa puntata del podcast la voglio dedicare a commentare con voi un articolo barra riflessione che ho pubblicato riguardante il mondo dei ransomware e di come questa tipologia di attacchi sta iniziando a impattare sempre di più nella vita di tutti i giorni sconfinando dal digitale al fisico che cosa sono i ransomware i ransomware sono un tipo di malware che limitano l'accesso del dispositivo che viene infettato richiedono un riscatto ransom in inglese da qui poi il nome da pagare al fine di rimuovere la limitazione alcune forme di ransomware bloccano tutti i sistemi altri invece vanno ad esempio a cifrare i file dell'utente chiedendo poi di pagare un riscatto al fine di avere la chiave di decriptazione questi questi tipologie di malware sono in giro da diverso tempo però ultimamente stanno iniziando a creare problemi perché ci sono stati una serie di attacchi molti di quali avvenuti sul territorio statunitense che stanno dimostrando come la mancanza di tecnologie a volte aumentare la sicurezza digitale può causare danni nella vita reale tutti i giorni il caso più emblematico riguarda la colonia pipeline company lo scorso 7 maggio 2021 un gruppo di hacker ha realizzato un attacco ransomware nei confronti della colonia pipeline company una delle più grandi aziende statunitensi nella gestione della distribuzione dei carburanti che trasporta benzina e carburante altro tipo di carburante dal Texas a New Jersey e quindi fornisce quasi la metà del carburante consumato sulla costa orientale degli Stati Uniti l'attacco ransomware realizzato da un collettivo hacker chiamato Darkside ha costretto la colonia pipeline company a mettere offline alcuni sistemi e alcuni servizi al fine di limitare poi i danni all'interno di tutta l'infrastruttura informatica questa decisione in un effetto domino ha causato enormi problemi negli Stati Uniti tanto che il governo federale ha dovuto intervenire avviando un piano speciale per compensare la garanzia dei fornimenti avviare distribuzione dei fornimenti su gomma tramite tir e quant'altro la compagnia ha poi ammesso di aver autorizzato un pagamento di un riscatto equivalente a 4,4 milioni di dollari per permettere la ripresa delle attività del prodotto il pagamento è avvenuto come li costituono in questi casi in bitcoin ma è di queste ore un ulteriore attacco ransomware che è andato addirittura a impattare su un sistema di traghetti si è verificato infatti un attacco ransomware nei confronti della Steamship Authority il più grande servizio di traghetti del Massachusetts l'attacco ha interessato i sistemi IT terrestri e ha causato ritardi nei trasporti oltre che la sospensione di intere tratte causate appunto dall'impossibilità di gestire mediante il servizio informatizzato prenotazioni acquisto di biglietti e quant'altro e quindi questo tipo di attacco ransomware è andato ad impattare nella vita di tutti i giorni delle persone che utilizzano il servizio di traghetti negli Stati Uniti sia per per lavoro per spostarsi per lavoro ma anche per trasporto merci e quant'altro dobbiamo preoccuparci? certo che dobbiamo preoccuparci perché questi sono soltanto gli ultimi due attacchi in ordine di tempo di cui abbiamo avuto riscontro ma attacchi di questo tipo sono sempre più frequenti i pirati informatici stanno prendendo di mira sempre più spesso obiettivi sensibili in modo da massimizzare l'impatto dell'attacco massimizzare i disagi e diciamo così invogliare i malcapitati nel pagamento di riscatti al fine di riavere i propri sistemi informatici nuovamente in funzione i pirati informatici già in passato hanno dimostrato la loro voglia di prendere di mira obiettivi sensibili anche obiettivi sensibili che tecnicamente non dovrebbero essere presi di mira perché eticamente molto scorretto come ad esempio attacchi perpetrati nei confronti di ospedali ma anche in Italia abbiamo avuto attacchi nei siti di diversi comuni italiani a mio avviso le istituzioni pubbliche sia italiane che europee dovrebbero iniziare a pensare a soluzioni per migliorare la sicurezza informatica di tutta quanta l'infrastruttura digitale pubblica ma anche di cercare così di sensibilizzare le aziende a dotarsi di strumenti di sicurezza al fine di prevenire simili attacchi che possono poi andare a causare danni economici all'intera collettività in un mondo sempre più interconnesso in cui i servizi digitali sono sempre più presenti nelle nostre vite e gli stessi sempre più essenziali dobbiamo prepararci al peggio perché ne va di mezzo la nostra vita offline ebbene con questa ultima notizia si conclude qui questa 99esima puntata del podcast di Marcosbox che vi ricordo è possibile ascoltare tramite feed rss ma lo trovate anche sulle principali piattaforme quindi spotify amazon music apple music google podcast skin per per alexa quindi mi trovate mi trovate ovunque vi invito a leggere il blog di Marcosbox dove è possibile trovare anche un feed rss se siete vecchi a scuola da poter aggiungere per poter essere sempre informati su qualche ultima notizia vi ricordo inoltre che c'è un canale telegram dedicato alle notizie di Marcosbox con relativa community telegram nella quale è possibile scambiare due chiacchiere chiedere consigli agli altri utenti ma anche parlare di qualsiasi cosa vi venga in mente perché non è una community dedicata soltanto a software libero e vi ricordo che è disponibile anche un canale telegram dedicato con offerte di Marcosbox dove posso offerte provenienti da Amazon con codice referrer Marcosbox che potete utilizzare per effettuare i vostri acquisti su Amazon voi pagate sempre con lo stesso importo il prodotto che acquistate su Amazon in cambio Amazon mi dà una piccola percentuale che mi può essere fornita indietro a modi buoni scontri per poter acquistare i prodotti su Amazon e magari sopperire ai casini informatici di rotture varie e quant'altro bene lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con il podcast di Marcosbox ciao ciao